Ciao a tutti i piccoli cluette e bentornati sul mio canale! Oggi siamo qua su Dotly perché è uscito un nuovo aggiornamento! Infatti questo aggiornamento è super bellissimo perché come potete vedere in questo mini video qua c'è questa ragazza che dobbiamo andare proprio nella parte in cui si fanno i pet neon Ma secondo me però ragazzi c'è un piccolo piccolissimo errore Perché questo aggiornamento dovrebbe cominciare oggi Però in realtà comincerà domani perché come potete vedere dobbiamo aspettare 23 ore E infatti perciò comincieremo domani a fare queste task Però comunque non vedo l'ora perché nella parte in cui noi dovremmo fare questi pet neon Però secondo me questo aggiornamento se cominciava oggi era bellissimo Però comunque questa cosa secondo me ha sbagliato solo un pochino a fare il creatore di Dotly Ma comunque tutti commettiamo degli errori, no? Comunque guardate come è tenendo questa RGB box Allora innanzitutto dobbiamo andare Si fa i pet neon Infatti c'è il posto in cui vorrei avere il pet neon più bello di tutti Ok? Poi qua si va e dobbiamo fare proprio un pet neon, eh? Un pet neon Primo Ora secondo Poi terzo E quarto Appena fatto il neon pet Voi avrete questa RGB box E questa RGB box come ho detto tantissime volte è molto cute Poi quando voi la prendete vedete che è minuscola Infatti sembra gigante Però poi quando la prendete sembra minuscolina Minuscolina Poi ragazzi in questa RGB box si possono trovare Due pet leggendari ragazzi Leggendari Infatti si può trovare un calamaro Non so come si dice in inglese Però è comunque leggendario E poi troveremo anche un camaleonte Che è comunque leggendario Oh mio Dio è leggendario Ti voglio bene Chloe Grazie, grazie, grazie Però comunque oggi siamo qua con tutti i piccoli cloetti Come Valentina Angie Raffaele Ayush Miriam Alessia Mary Tantissimi altri che in questo momento saranno in giro dappertutto Intanto che siamo però qua ragazzi Non abbiamo niente da fare perché la nostra task board Intanto è in off limits Mary intanto si pensava che i miei stessi capelli Siamo veramente sis Lei però ha le cuffie viola Io ce le ho blu Guardatela Guardatela C'è meravigliosa Lei è meravigliosa Poi anche un outfit da favola Da favola Ci beviamo coca cola Sì è buonissima Panino del mcdonald Con la mia gang Ci beviamo la coca cola Vabbè non importa Guardate che carino ragazzi Che bel regalo che mi hanno dato Chissà cosa fa Non l'ho mai provato Che succede con questo Only pet can use this Ha un gioco per i pet praticamente Vabbè comunque mi hanno dato un sandwich Buonissimo Raga mi è arrivata già una task Drink a potion E dove la trovo una pozione Allora mi sa che la pozione ce l'ho già nel food Ah no Questa è solo per i pet Io ho questa al massimo Io ho questa Proviamo 3 2 1 Ha ha Ho bevuto Ora ce l'ho Claim Compra Ora devo aspettare Veramente un giorno Drink Allora mi ha dato Una pozione Che Madonna È bellissima Drink To cure All needs Such a hunger And boredom Beviamo Anzi Voglio conservarla Perché ci saranno casi Molto 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 speciali Ok raga Dato che l'aggiornamento di Adopt me È un po' Che inizierà Domani Voglio giocare un po' A Nascondino Infatti chi mi trova per primo Vince un pet Super 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 figo Infatti adesso Andiamo a casa 11 Vabbè Stanno tutti che La mia casa è da quella parte Perché se no Non posso andare in qualsiasi casa Perché poi loro non la trovano E ora Adesso prendiamo questa casa Che sarebbe quella del nuovo aggiornamento Infatti l'ho fatto Questa è la terza volta Che io gioco A fare nascondino Su Brookhaven Infatti Sono 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 Super contenta Ok raga Adesso che ho messo la casa Tutti devono Trovarmi Infatti Cercherò qualche Nascondiglio Molto 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 segreto Intanto Mettono Questa casa Meravigliosa Che serve il premio E ora Andiamo proprio A nasconderci Ma nessuno Può Arrivarci Eh ma devo nascondermi Non entrate Non entrate Non mi devono vedere Ok 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 Ora diventiamo piccoli Però Ho scoperto Che se io vado di sotto C'è questo tipo di griglia Che mi possono vedere Eh ma mi vedono anche da di là Perciò Ora io Andrò di sopra Non mi troveranno mai Da qua Allora intanto 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 Andrò in Una stanza Mi sa che era Questa no No non era questa Era un'altra Questa Sì Forse però È un po' troppo semplice Forse Andrò tipo qua Ah Così non mi troveranno mai Sapete cosa Ok Così non mi vedranno mai Cioè sono nascosta Come un birrillo Che non si può vedere Come una formica Ok Uh Tre Due Uno Oh Balla Ora vediamo tutti Dalle telecamere Ok sono entrati Ora tutti Ora di sopra No Qualcuno di sotto È sbagliato Aiuto No Ok Qualcuno intanto qua Ah ah Non sono nella cassa morte Ah ah Aiuto Però sono nella mia stanza Ti ho paura Ti ho paura Se mi vedono È la fine del mondo Non davo a cliccare Niente Perché se io salto Mi vedono Tutti Ciò Ah ah Non mi sono mai Aiuto 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 No no Il tipo Yoshi Non mi può trovare Ah Non so perché Sono Ok Allora Vediamo tutto Allora Tanti tanti Sono arrivati Anche qua C'è solo Miriam E Angie Che sono qua C'è qualcun altro In qualche Stanza No Allora Intanto ci sono tantissime Che mi stanno cercando Poi abbiamo Angie Che è andato in bagno Poi è andato qui Allora Mi sto controllando Dove stanno andando C'è tipo Alessa Che mi troverà A prendere il pet Ma sono sicura Che è impossibile Trovarli Sono sempre nella stanza Ma non sanno Dove io posso Nascondermi Sapete cosa Non voglio dargli Nessun indizio Aiuto È vicinissimo No 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 È vicinissimo Cioè ma era vicinissima Ah Per fortuna Che non mi ha visto Non mi ha visto Rega Non mi ha visto Ok Nessuno mi troverà In questo posto infallibile No Perciò ragazzi Niente premio Per nessuno Se non mi trovate Però qualcuno Prima Poi devo trovarmi Oppure salterò Pantera Indizio No 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 Indizi Non ci saranno Indizi Non ci saranno Indizio Please No 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 Cioè No Nessun indizio Rega Questa cosa È molto 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 Difficile Perché questo È il terzo Nascondino Che noi facciamo Per tutti i vlog Di Roblox Ah C'è Miriam È vicina Ti prego Non saltare Ti prego Ma continuano A entrare Di là Anche se io Non ci sono Aiuto Faccio questo Faccio questo Eh Faccio un piccolo Scherzo Così Sanno che io Sono in questa Stanza Ma non sono Di là Aiuto Mi riove Ero vicinissimo No Ma non No Ah 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 Così Sanno che io Sono in quella Stanza Ma non lo Sapranno Mai Ok Non sapranno mai Che io Sono in quella Stanza Eh Cioè Sanno che adesso Io sono in quella Stanza Ma tutti sono usciti Guarda quella che si lamenta Ok No 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 Non mi ha visto Non mi ha visto Non mi ha visto Non mi ha visto ragazzi Non mi ha visto No 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 E mi ha trovato Mary E Trovata Sissa nella macchina E già Mary Bravissima Ora li scrivo bravissima Dov'era? Io ero esattamente qua E nessuno mi trovava Però vi ho svelato il mio segreto Saluto Shirley Facciamo Allora io voglio il secondo Perché vuole Sono triste Mi dispiace perché sei triste Ora ragazzi andiamo su ad Otmi Che dobbiamo andare il petto Mary Olè 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 Ok Vediamo cosa vuole Chissà 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 Devo scegliere Sì Sì devi scegliere Ah non lo so Eh tante volte anche io sono indecisa Ok vediamo 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 Ok Cloetti Vediamo questa Cloetta Cosa può scegliere Chissà Forse Come si dice Kitsune Ok Ve la prendiamo Eccoci qua Ora abbiamo questo petto meraviglioso Trade Voila Ok Mettiamoli Voila Ti piace Ti piace Grazie Grazie Prego Non c'è Di che Ah sì Cosa c'è Sì Ah sì Cosa Ti ricordi che Che te volevi tanto Le cuffie Sì Sì Che ce n'erano nello shop Nel pet shop Sì Ups Sì Ecco Cosa Lei ha preso Allora Questo No Eh ci sta facendo Della suspense Che Quindi No ma è stata gentilissima Che cosa Ma quindi questo è un regalo Un regalo Come tipo Natale No È tipo Natale Te le meriti Grazie 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 Ma è figo Allora chissà Chissà che pet posso metterlo Posso metterlo Al Ci hai No No Mi sa Forse Sapete Forse Ha questo Aha Ok Mettiamoli il cappellino Oh ne ho due Gli sta che è un po' largo Gli sta un po' largo Gli sta un pochino largo Il figlio di mia sis E già Ok Però comunque Non vedo l'ora Di farlo neon Però comunque Ragazzi Io e la mia sis Finiamo qua Perché è super super brava Infatti Noi ci vediamo Nella prossima Con una nuovissima avventura Ma prima voglio Che vi iscriviate al canale Mettete like a questo video Mettete un commento Su che cosa pensate Di questo meraviglioso video Qui insieme Al nascondino Aspetta Guardate qua Che pose meravigliose Che lei sta facendo Infatti Guardate Mettete like Perché lei è meravigliosa Comunque raga Noi ci vediamo Alla prossima Con una nuovissima avventura Infatti Non ve la dovete perdere Perdere Infatti Noi ci vediamo Alla prossima Ciao E mua Alla prossima Alla prossima